Non c'è nulla di più ottocentesco di un salone da ballo, quindi preparate il vostro abito più bello perché oggi si danza! Ciao, sono Laura Bartoli e questo è Viaggio nell'Ottocento, il podcast in cui ti racconto personaggi, luoghi, curiosità e tutto ciò che mi appassiona sull'Inghilterra vittoriana. Iscriviti per non perdere le prossime puntate! Benvenuti in questa nuova puntata del mio podcast Viaggio nell'Ottocento, puntata in cui cominceremo ad affrontare uno degli argomenti più richiesti. Ricevo continuamente domande, dubbi, perplessità su quello che riguarda la danza ottocentesca. È un argomento vastissimo, potremmo starne a parlare per ore e ho deciso di dedicarle due puntate, parleremo per due puntate delle danze in epoca vittoriana, ma poi magari ne parleremo anche più avanti perché appunto non ho pretesa di essere esaustiva in queste due puntate, diciamo che faremo una chiacchierata e porteremo a galla diverse curiosità, cercheremo di capire come nasce una danza nell'Ottocento, come si diffonde a Londra, che cosa significava la danza all'interno della società inglese del tempo e capiremo poi come ci si doveva comportare quando si partecipava a un ballo. Ma cominciamo quindi a capire che cosa voleva dire partecipare a un ballo al tempo. Ho riflettuto un po' su quello che potrebbe essere un parallelo appropriato con la società di oggi e senz'altro andare a ballare oggi ha tutto un altro significato, quindi se dovessi pensare a qualcosa che oggi nella società moderna può ricoprire lo stesso ruolo di un gran ballo al tempo, mi verrebbe da pensare a un account Instagram. Non so se questa è un po' deformazione professionale per via del fatto che utilizzo i social per tante ragioni che non hanno solo a che vedere con la sfera personale, ma credo proprio che Instagram abbia tantissimi punti in comune con un ballo nell'Ottocento. Non so se usate molto Instagram, probabilmente sì, ma Instagram è nato come il social dell'immagine, tuttora è il social dell'estetica. L'estetica, si sfoggia l'estetica sia per quanto riguarda la propria immagine personale, sia per quanto riguarda il proprio stile di vita e questo come creatori di contenuti, quindi se andiamo a postare delle immagini vogliamo in qualche modo valorizzarci e valorizzare il nostro stile di vita, mentre se andiamo invece a fruire dei contenuti altrui, cerchiamo ispirazione, guardiamo gli altri con curiosità, ci facciamo quasi ipnotizzare da tutti questi colori che vediamo scrollando il feed di Instagram e magari cerchiamo anche qualche gossip per scoprire che cosa fanno e dicono gli altri. Beh, questo è esattamente quello che accadeva a un ballo ottocentesco. Innanzitutto c'era un tripudio di colori, ognuno sfoggiava il proprio lato migliore, il proprio abito più bello. Cercava di lasciar traperare del proprio stile di vita, soltanto anche qui le parti migliori, le parti più affascinanti e si creavano relazioni, senz'altro di questo parleremo, ma soprattutto si cercava anche di avere informazioni su quello che stavano facendo gli altri, i balli erano il posto perfetto per spettacolare, lo vediamo spesso nei film. In generale potremmo definire un gran ballo ottocentesco proprio come il titolo di uno dei romanzi più famosi dell'ottocento, cioè Vanity Fair, la fiera delle vanità di William Thackeray. E soprattutto, proprio come Instagram e come i social, i balli erano social, perché appunto le danze erano danze di società, tutte le danze erano coreografate in modo tale da permettere ai partecipanti di incontrare un gran numero di danzatori. Difatti si partiva senz'altro con un cavaliere o una dama, ma poi il punto della coreografia era sempre quella di cercare comunque o di cambiare dama, cavaliere nel corso della danza, oppure di comunque ballare, avere contatti con altre persone che non fossero soltanto il proprio partner in quella danza specifica. Questo perché le dinamiche sociali del tempo non prevedevano che si potesse attaccare bottone con una persona random per strada. Quindi c'era bisogno di una situazione, almeno una situazione, in cui fosse consentito approcciare e cominciare a relazionarsi con una persona che non si conosceva. Quindi la danza era proprio questa preziosissima occasione. E parliamo di relazioni di ogni genere, chiaramente, ma lo so che già state pensando al waltzer, state pensando al romanticismo del waltzer. Ebbene sì, avete ragione, perché comunque il waltzer è un po' la quintessenza della danza ottocentesca. E cerchiamo quindi di capire che cos'era il waltzer, ma anche quanto fu importante il waltzer e come cambiò il modo di intendere una danza. Allora, innanzitutto devo fare una specifica e probabilmente deludervi tantissimo, perché il waltzer non era come quello che noi vediamo sempre nei film o anche in qualche favola, diciamo così, sempre qualche film non propriamente storico, ma che vuole comunque richiamare le ambientazioni ottocentesche. Perché vediamo sempre queste coppie che volteggiano, volteggiano, volteggiano vertiginosamente decine e decine di volte. Ora, secondo voi poteva davvero essere così nella vita reale? Io non so se avete mai partecipato a una qualche rievocazione, se avete indossato degli abiti ottocenteschi. Vi posso esicurare innanzitutto che la crinolina è pesantissima, l'abito ottocentesco è davvero scomodo e comunque volteggiare, riuscire a controllare i propri movimenti, comunque era estremamente impegnativo. Questo magari valeva più per la metà dell'ottocento, perché nel primo ottocento gli abiti erano un pochino più leggeri sicuramente. Però ecco, l'abito era una difficoltà, ma la difficoltà principale era proprio legata al movimento, al fatto che il movimento fosse così rapido e vorticoso, come lo vediamo noi nei film. E immaginate che per fare una cosa del genere non ci poteva essere più di una coppia che ballava, altrimenti ci sarebbero state sicuramente delle pericolose collisioni. Quindi il waltzer cosiddetto libero, come si vede nei film, era davvero molto raro e di sicuro non prevedeva tutte quelle pirouette e tutti quei giri vorticosissimi. Il waltzer, quindi, come era fatto? Il waltzer era comunque coreografato. Quindi c'erano delle coreografie che prevedevano anche dei giri di waltzer, chiaramente, tutta una serie di figure, giri di waltzer che potevano essere fatti in posizioni diverse tra loro. Per esempio, il waltzer dei fiori aveva una posizione con delle braccia in alto, quindi una mano cingeva la dama, l'altra invece teneva la mano della dama in alto, quindi si creava una posizione un pochino particolare. Quindi anche i waltzer avevano dei passi, delle figure che bisognava rispettare. Spesso anche i waltzer portavano la dama ad entrare in contatto con altri cavalieri e viceversa anche il cavaliero ad entrare in contatto con la dama, perché c'erano comunque degli scambi che erano previsti o comunque, come vi dicevo prima, sempre delle situazioni in cui si incontravano anche altri partner. Quindi toglietevi dalla testa questa immagine della coppia che gira, 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 vorticose e che miracolosamente non va a sbattere con nessun'altra all'interno della sala da ballo, perché davvero non è assolutamente realistica. Ma che cos'è realistico pensare che il waltzer fosse una danza così romantica? Allora, il waltzer arriva a Proda ufficialmente nelle sale da ballo vittoriane, anzi ancora non siamo nell'epoca vittoriana perché parliamo del 1816. Ed è uno scandalo, perché per la prima volta il cavaliere cinge la dama in un abbraccio che è rigido, ma pure vertiginoso, abbiamo visto. Quindi c'è questo ballare che è comunque travolgente, seppur controllato da, insomma, le coreografie previste. Nelle coreografie a cui si era abituati prima del waltzer, quindi parliamo magari di quadriglie, parliamo di contraddanze, perché il cavaliere sfiorava la dama, la toccava solo rapidamente magari, le passava molto vicino, certo, ma mai la cingeva in un abbraccio così deciso. Il waltzer è una danza audace, che all'inizio fa fatica ad essere accettata perché è ritenuta disdicevole, ma poi avviene qualcosa. Arrivano le musiche degli Strauss. Strauss padre, Strauss figlio, gli abbiamo dedicato già una puntata quando abbiamo parlato dei loro tour, perché andavano in tour come le moderne pop star, quindi vi invito a recuperare quella puntata se volete saperne di più, ma che cos'è importante che abbiamo imparato in quella puntata? Che gli Strauss erano apprezzatissimi dalla alta società londinese, inglese in generale, e di conseguenza, essendo le loro musiche appunto dei waltzer, le loro musiche riescono a nobilitare questa danza e di conseguenza questo movimento così audace finisce per essere accettato. Melodie innegabilmente romantiche e che quindi fanno sì che comunque anche questo nuovo aspetto estremamente romantico della danza venga, ahimè, accolto. E mai negato, mai negato. Ho trovato un volume del 1887 che ci dice, leggo testualmente, i mariti gelosi non permettono alle mogli di danzare con un altro uomo e fanno bene perché il waltzer è la danza dell'amore. La danza dell'amore è così che questo libro definisce il waltzer nel 1887. Ma come fa una danza ad arrivare a Londra? Come fa una danza a diffondersi a Londra, a diventare popolare? Cioè, chi è che balla il waltzer e all'improvviso sparge la voce, sparge questa moda? Beh, allora, la comparsa del waltzer e anche di molte delle danze ottocentesche che poi prendono piede, parte da un club che si chiama Almax Club. Ho dedicato diversi video al mondo dei club privati a Londra e li trovate sul mio canale YouTube. E vi ho sempre parlato però di strutture molto sfarsose, strutture proprio intendo la sede del club, la sede del club, pensiamo al Garrick Club, pensiamo al Reform Club, all'Athenium Club, che esistono ancora oggi, sono ancora in piedi e sono meravigliose, elegantissime. E' la quintessenza dell'epoca vittoriana, come ce la potremmo immaginare. E beh, l'Almak era totalmente diverso. L'Almak nasce nel 1765, siamo nel cuore di Londra, King Street, il quartiere di St. James's, ed è fondato da un tale William Almak. L'identità di questo Almak è abbastanza misteriosa, non si hanno tantissime informazioni. Quello che sappiamo quindi, che questo Almak non avesse le risorse economiche per poter costruire una sede all'altezza di quelle di cui si freggiavano gli altri club della zona, però comunque aveva un sacco di conoscenze, conosceva tantissime persone altolocate e riesce a convincerle a partecipare a questo club, nonostante alcune testimonianze del tempo ci parlino addirittura di perdite d'acqua dal soffitto. Quindi questo Almak era talmente influente in qualche modo all'interno delle dinamiche della società londinese che riesce a raccogliere tutta una serie di membri del club particolarmente altolocati. Ed è così che comincia questa tradizione delle suare danzanti, vengono organizzate delle serate danzanti all'interno di questo club che diventano così in voga che tra quelle mura si comincia a decidere ogni volta la prossima danza in voga a Londra. All'inizio erano serate super esclusive perché erano riservate agli iscritti al club, quindi soltanto chi era ufficialmente membro poteva partecipare. Ma poi Almak comincia a capire che forse è meglio dargli una sistematina a questa sede e capisce che c'è bisogno di raccogliere un pochettino di soldi. Quindi decide di far costruire tre saloni elegantissimi per ospitare queste suaree e per raccogliere questi soldi decide di proporre anche ai non iscritti una sorta di abbonamento. In pratica pagavi 10 guinee, che oggi sarebbero equivalenti più o meno a 700 sterline, e per 12 settimane potevi godere del privilegio di un ballo e una cena a settimana. Per 12 settimane valeva questo abbonamento e nel 1814, quindi siamo entrati nell'800, si parla dei balli all'Almak come del non plus ultra dei trattenimenti alla moda. Non è che tutti fossero ammessi perché c'erano delle nobile donne estremamente intransigenti di cui si doveva superare il vaglio, però se si riusciva ad essere ufficialmente iscritti ci si poteva considerare parte di questa cerchia ultra elegante dell'alta società londinese. E le regole erano rigidissime, le regole non solo dell'accesso al club ma anche proprio della partecipazione alle serate. Tanto che, per esempio, una delle regole era quella che non si poteva entrare dopo la mezzanotte. E addirittura la storia ci dice che il duca di Wellington, di cui abbiamo parlato in diverse puntate, si presentò dopo la mezzanotte e niente, non lo fecero entrare. Il duca di Wellington dovete girare i tacchi e andare a casa. Quindi non si facevano sconti neppure per l'uomo che aveva sconfitto Napoleone. Quindi se vi ho raccontato questa storia dell'Almak avrete capito che il waltzer parte dall'Almak. Ma non è il solo, tra le danze molto famose che ci portiamo ancora dietro dell'Inghilterra ottocentesca, all'Almak arrivò anche la quadriglia. Arrivò un paio di anni prima del waltzer. Con il waltzer, abbiamo detto, parliamo di 1816, invece la quadriglia arriva nel 1814. Quindi la prima volta che viene danzata a Londra e viene danzata a questo Almak's Club. La quadriglia era di importazione francese, era nata in Francia per coinvolgere due coppie che si posizionavano l'una di fronte all'altra, mentre alla fine del Settecento già era diventata da quattro coppie. Compagnivano praticamente i quattro lati di un quadrato. Quindi immaginatevi un quadrato con una coppia per lato, coppia che fronteggia coppia. Ed è da qui poi che arriva il nome quadriglia. La quadriglia era molto più elaborata del waltzer. Era una danza più che altro tecnica. Il waltzer invece, per gli spiriti libri e gli spiriti audaci, non richiede tanto tecnica quanto passione nell'esecuzione. E dopo il suo debutto all'Almak, fa il suo debutto anche a corte. E la società è sconvolta. Sono riuscita a trovare un articolo del Times del luglio del 1816 che fa la recensione, diciamo così, di una serata a corte in cui era arrivato sia il waltzer che la quadriglia. E ovviamente questo articolo se la prende in particolare con il waltzer. Ho tradotto questo estratto e ora ve lo leggo. Rileviamo con dolore che l'indecente danza straniera nominata waltzer è stata introdotta, si crede per la prima volta, alla corte inglese lo scorso venerdì. La circostanza non può passare sotto silenzio. La morale nazionale dipende dalla condotta nazionale. Non serve che una singola occhiata al voluttuoso intreccio di braccia e all'estrema vicinanza dei corpi in questa danza per comprendere quant'essa si discosti dal modesto riserbo fin qui reputato distintivo delle donne inglesi. Fintanto che tale osceno sfoggio era relegato alle prostitute non lo si è reputato degno di nota. Ma ora che si tenta di imporlo sulle classi rispettabili a mezzo del pessimo esempio dei suoi superiori è doveroso allertare ogni genitore affinché non esponga la propria figlia a una tale scellerata contaminazione. Oggi ci fa un po' ridere leggere questo passaggio sul Times diciamo ci fa quantomeno sorridere. Insomma all'alba dell'epoca vittoriana ormai la quadriglia, il waltzer sono eletti tra i favoriti che poi accompagneranno anche tutti i partecipanti dei grandi balli a Buckingham Palace alla corte della regina Vittoria. E questo progressivo inserirsi delle nuove danze all'interno della quotidianità delle persone all'interno di tutti gli eventi mondani della società fa sì che piano piano cambi anche il modo di fruire dell'esperienza del ballo. E le persone cominciano a stancarsi di tutte queste mega suare che vengono organizzate dai club. e a mano a mano anche la luce dell'almac si affievolisce fino a spegnersi circa 90 anni dopo la sua fondazione che dicevamo era stata nel 1765. E improvvisamente i balli divengono la competenza e il divertimento delle nobile donne che decidono di organizzare delle serate modaiole a casa propria. Quindi il ballo diventa strumento di sfoggio per le nobile donne. E qui possiamo dire che già abbiamo identificato diverse evoluzioni dell'esperienza del ballo passiamo dalla tecnica all'espressività passiamo dai balli pubblici ai balli privati magari non è proprio questo il termine non sono questi i termini corretti per definirli però insomma da balli strutturati organizzati da un'istituzione, un'ente a dei balli privati che erano iniziativa di singole nobile donne. Il ballo seppur mantiene tutte queste caratteristiche che oggi lo rendono così simile a Instagram come vi ho già spiegato diventa sempre più simbolo di festa. E proprio per accentuare quest'area di festa le nobile donne non vedevano l'ora di scegliere il cotillon da proporre al loro party. Allora che cos'era un cotillon? Oggi se vi dico cotillon sono sicura che vi viene in mente l'espressione ricchi premi e cotillon. Allora era più un gioco che una danza e funzionava così la padrona di casa forniva dei piccoli accessori dei piccoli oggetti che venivano poi regalati ai partecipanti quindi questi partecipanti se ne andavano a casa con dei souvenir e questi oggetti facevano proprio parte della coreografia. Inutile dire che nasce tutta un'industria attorno a questi piccoli oggettini da utilizzare per i cotillon quindi ci sono aziende che si inventano tutti i generi di cotillon per dare qualche idea alle nobile donne che non sapevano che cosa inserire all'interno delle proprie danze ma pure gli ospiti iniziano ogni volta a non veder l'ora di scoprire che cosa si potranno portare a casa dal prossimo ballo. Ma il cotillon ha anche un'altra particolarità. Se di solito nelle altre danze è sempre molto forte il ruolo di conduttore del partner maschile quindi del cavaliere per cui la dama deve in qualche modo fidarsi del cavaliere ci sono addirittura delle coreografie che simulano proprio un corteggiamento nelle figure di danza che ci propongono nel cotillon di solito c'è sempre la donna al potere potremmo dire che il cotillon è il trionfo di quello che oggi chiamiamo girl power. E per farvi capire a che punto arrivavano ho trovato dei cotillon in vari manuali del tempo ve ne leggo uno che si chiama La pesca a lenza. La dama tiene in mano una canna da pesca all'estremità della quale è appeso un biscotto diversi cavalieri sono condotti al suo cospetto si inchinano e devono tentare ad acciuffare il biscotto con i denti il più abile del gruppo vince l'onore di danzare con la bella pescatrice. Ma ve li immaginate questa dama nei suoi meravigliosi abiti che tiene in mano questa canna da pesca e sotto tutti tutti i cavalieri che si comportano praticamente come dei cagnolini e ce ne sono tanti altri che si possono trovare nei manuali del tempo per esempio ce n'è uno che si chiama La caccia che prevede che alla fine della stanza vi sia la dama e che per arrivare da questa dama i cavalieri debbano superare tutta una serie di ostacoli saltando su un piede solo cioè immaginate il ridicolo a cui questi cavalieri si esponevano quindi la donna era al centro nei cotillon la donna era il premio da vincere ma era pure quella che poteva indirizzare il gioco perché immaginate che se la donna voleva poter scegliere la persona con cui ballare pensate al cotillon della pescallenza e sicuramente poteva molto facilmente mettere il biscottino in bocca al cavaliere con cui voleva danzare e qui abbiamo scoperto uno dei modi con cui si formavano poi le coppie quando si cominciava una coreografia ma in tutti gli altri casi come si faceva? beh a questa e molte altre domande risponderemo nella prossima puntata in cui continueremo a parlare di danza e parleremo di quello che accadeva all'interno di una sala da ballo e quali erano i comportamenti che bisognava tenere gli oggetti che si consigliava di portare e quindi poi come le relazioni che venivano costruite all'interno della sala da ballo potevano o non potevano chissà evolvere fuori dalla sala da ballo io vi ringrazio per essere stati con me anche in questa puntata spero come al solito di avervi insegnato qualcosa che prima non conoscevate e se avete un argomento da propormi potete scrivermi all'indirizzo laura chiocciola laurabartoli punto com vi aspetto grazie a tutti grazie a tutti